Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di essere presenti qui questa mattina. Insieme a me do il benvenuto a Ilaria Stipa che è presidente FAI delle Marche, Alessandra, perdono, e Ilario Di Luca che invece è il coordinatore dei giovani sempre delle Marche del FAI. Anche quest'anno, il 23 e il 24 marzo, in Italia e in modo particolare nella nostra regione, ci saranno le giornate FAI di primavera. Un'occasione unica, un'occasione importante per promuovere e far conoscere il nostro immenso patrimonio culturale. Tutto questo grazie al lavoro dei volontari del FAI che con costanza, impegno, determinazione e dedizione ogni volta, diciamo, scoprono dei luoghi nuovi, vanno anche a conoscerne poi la storia, l'origine, la cultura e danno poi l'opportunità di farlo conoscere a tutto il pubblico che in quelle giornate appunto visiterà questi luoghi. Grazie al FAI quindi c'è l'opportunità da un lato comunque di dar voce a dei luoghi che a volte possono essere abbandonati o meno conosciuti, ma anche dei luoghi che a volte non sono aperti al pubblico e che quindi nascondono al loro interno magari dei patrimoni importanti e significativi che appunto il pubblico purtroppo non ne può usufruire se non in queste circostanze. Quindi credo che siano degli appuntamenti fondamentali per dare un po' a tutti l'opportunità di conoscere la nostra storia, le nostre origini, il nostro patrimonio perché molto spesso all'interno di questi luoghi veramente trasudano di storia, quindi è possibile veramente appassionarsi di queste realtà. E come dicevo anche prima un aspetto fondamentale che deve essere riconosciuto al FAI è proprio il fatto di coinvolgere i giovani, quindi di far sì che loro stessi siano protagonisti di queste giornate ovviamente accompagnati dai volontari come appunto dei giovani ciceroni che studiano insieme appunto ai loro docenti alcuni luoghi specifici e poi loro stessi li raccontano ai visitatori che in quelle giornate appunto vengono nella nostra regione. Quest'anno saranno 60 le località, i luoghi appunto del FAI in 31 località della nostra regione, quindi un patrimonio che deve essere sempre valorizzato, deve essere soprattutto conosciuto da più persone possibili, quindi non solo ovviamente da marchigiani ma anche da tanti altri che verranno nella nostra regione proprio in quei luoghi. Quindi è sicuramente anche per noi un modo di far conoscere la nostra cultura al di fuori dei confini naturali. Quindi ringrazio il FAI, ringrazio in maniera particolare tutti i volontari che si mettono a disposizione e che comunque ci aiutano appunto a far conoscere la nostra regione. Io adesso lascio la parola alla Presidente Alessandra Stipa per il suo intervento, grazie. Funziona? Sì funziona, ma tanto poi siamo abbastanza in una sala piccola quindi possiamo sentirci anche così. Io ringrazio la regione di averci ospitato come per tanti anni abbiamo fatto qui in regione e altri vanno in soprintendenza, ma insomma abbiamo sempre scelto Ancona in quanto sede diciamo così regionale. Ecco, io qui vorrei ringraziare effettivamente e ci sono in rappresentanza tutti i capi delegazione delle Marche. A cominciare li voglio elencare da Fiammetta Malpassi, comincio da nord a sud o viceversa perché tanto nord e sud sono soltanto indicazioni geografiche. Quindi Fiammetta Malpassi, l'architetto Fiammetta Malpassi di Pesaro, poi c'è Senigallia, l'architetto, c'è un sacco di architetti nel FAI. Senigallia, Rosi Castelli, Ancona, Manuela Panini, la conoscete penso, credo che per i giornalisti di qui sia un voto conosciuto. E poi a Macerata il professor Giuseppe Rivetti e poi a Fermo l'avvocato Rossella Falsetta e ad Ascoli Piceno sono sempre io. Quindi insomma siccome è piuttosto noiosa la cosa, la ripetizione, qui abbiamo la professoressa Vittoria Minola che appunto viene da Ascoli come vice capo delegazione. Poi abbiamo i giovani, la persona di Ilario e poi abbiamo anche dei volontari, ecco io non li cito tutti quanti perché naturalmente sarebbe un elenco qui breve ma lunghissimo. Quello che voglio sottolineare perché tanto ha già i numeri sono sul, credo che siano sul comunicato stampa che vi è stato dato da Marco Vannozzi che ringrazio che il nostro giovane ha detto alla comunicazione regionale. Quindi non mi soffermo, cerchiamo di essere sintetici. Quello su cui vorrei insistere è che queste giornate oltre che essere all'insegna di ciò che ha già detto l'assessore alla cultura, vengono all'insegna di altri due elementi da sottolineare secondo me. Una è la partecipazione, l'altra è la passione. La partecipazione e la passione sono le due anime delle giornate FAI di primavera perché in realtà ci autocelebriamo nel senso che oggi sono qui io e i capi delegazioni regionali di delegazione a rappresentare il FAI. Ma in realtà dietro di noi c'è una folla immensa che non è fatta soltanto dai visitatori. Pensate che l'anno scorso sono stati circa 37 mila. Quindi insomma in due giorni, nelle poche ore di apertura del sabato e della domenica, mattina e pomeriggio, noi muoviamo una folla immensa di persone. Ma oltre a quei cittadini che sono naturalmente l'anima e l'obiettivo del nostro lavoro, ci sono le migliaia di persone che preparano queste due giornate. Perché sembra così d'amblè che con uno schiocco di mani si possa aprire 60 beni nelle marche, piuttosto che 750 in tutta Italia. Ma voi immaginate, riflettendo un pochino, tutto l'enorme lavoro che c'è e debbo ringraziare di questo i volontari FAI, i capi delegazione, tutti i delegati FAI di tutte le province italiane, i capi gruppo, i capi gruppo giovani e tutti i volontari dei gruppi e dei gruppi giovani. Oltre a questo c'è tutto il lavoro delle scuole, quindi tutti i presidi che accettano, presidi o direttori, dirigenti scolastici perché le nostre riforme sono tutte a base di cambiamento di nomi e non altro. Quindi ora i presidi che io conoscevo, data la mia età e si vede dai miei capelli bianchi, ora si chiamano dirigenti scolastici. Quindi i dirigenti scolastici, i professori che si danno da fare e in orari spesso estracurricolari preparano questi giovani con un progetto interno. Tutti i giovani che aderiscono, tutte le famiglie che sono dietro. Quindi voi immaginate tutti i privati che ci aprono o le diocesi o piuttosto che i sindaci. E io quest'anno ho anche una novità grazie a Macerata e al nuovo capo delegazione di Macerata, il nuovo relativamente, il capo delegazione di Macerata è il più nuovo tra noi comunque. Abbiamo anche molti comuni, alcuni comuni che si sono iscritti al FAE. L'anno scorso, devo dire la verità, adesso quest'anno ho perso un po' il conto, assessore. L'anno scorso la Regione ha aiutato il FAE, nelle giornate FAE di primavera con un contributo e di questo la ringraziamo. Quest'anno non lo so, Marco tu sai se c'è stato, non lo so, comunque vi ringraziamo ugualmente perché se non l'avete fatto, non l'avete rinnovato, sicuramente lo farete per le giornate FAE di autunno. Quindi ecco, tutto questo costituisce la macchina del FAE. E poi ringrazio voi giornalisti che siete sempre al nostro fianco, le televisioni private, la RAI, quindi immaginate che sforzo collettivo. Io sono un po' a raccogliere oggi, di questo mi compiaccio ma mi dispiace anche, che noi coralmente non potessimo essere tutti presenti, perché io naturalmente accolgo su di me gli onori di tutto questo sforzo che non è il mio, è tutto quanto di tutte queste persone e tutti questi cittadini italiani. Quindi io vorrei in qualche misura proprio che voi lo sottolineaste, che chi ci ascolta lo sottolineasse, perché è uno sforzo corale. Quindi i beni li sapete, non c'è bisogno di aggiungerne altri, ci sono delle chicche. Io vorrei magari che si desse parola al capi delegazione un momento, ma proprio un attimo, per ognuno sottolineare la sua chicca, anziché farlo io. Ce l'avete qui, ma magari se volete venire un momento io vi sono grata di questo, perché è l'unico momento in cui io posso essere accanto a voi in un certo modo. Quindi se venite qua, venite qua, dai. A me le cose molto paludate non mi piacciono, lo sapete, no? Quindi, lo sapete. Partecipazione e passione. Allora, nella provincia di Ancona apriremo 11 beni, come diceva Alessandra, 11 beni, come diceva Alessandra, grazie a uno sforzo collettivo veramente importante. Vorrei sottolineare un'apertura molto particolare ad Ancona, ce ne sono 11, quindi non le dico tutte, ma sono tutte molto significative. L'apertura dell'Istituto Zoo Profilattico Sperimentale Umbria Marche, che è un edificio moderno realizzato nel 2011 e che appunto è stato progettato degli architetti anconetani, Serbelini Marasca, che è bellissimo, che ha venuto un concorso addirittura internazionale, e che appunto è il contenitore di un contenuto che è ai più sconosciuto, ovvero l'attività dell'Istituto Zoo Profilattico. E questa è un'apertura che a noi intriga moltissimo, anche perché nessuno degli anconetani conosce né dov'è e né che cosa fa. Quindi questo è tipico del FAI, andare a scovare delle chicche sconosciute e aprire questi scrigni e raccontarne il contenuto. Poi volevo sottolineare un'altra apertura molto interessante, che è il complesso monumentale di San Giuseppe da Copertino a Osimo, che verrà interamente aperto, comprese anche le stanze dove viveva il santo tanto amato dagli studenti. E altra apertura interessantissima, Villa Centofinestra Filottrano, che con il suo parco meraviglioso aprirà questa porzione di paesaggio del Settecento a tutti gli visitatori che sono molto interessati a scoprire la storia di questo meraviglioso luogo. Ecco, mi avevi detto tre, io mi sarei fermata, vorrei forse aggiungere il palazzo della Prefettura di Ancona, se mi permettete, perché questa è stata una sinergia molto importante con la Prefettura che abbiamo attuato nell'ultimo periodo e che ci ha permesso appunto di aprire le stanze di questo luogo e soprattutto raccontare qual è il ruolo della Prefettura all'interno della vita civile della città di Ancona, ma non solo anche del suo territorio. Ne approfitto un attimo per segnalare una cosa a voi giornalisti, che in collaborazione con la Commissione europea abbiamo stilato un elenco di luoghi definito itinerario europeo, a livello nazionale ovviamente, proprio per queste giornate FAI. E ci sono finiti due luoghi nostri marchigiani, quindi sono felice di comunicarveli. Uno è Mondolfo e l'altro è Pesaro, Villa e Parco Miralfiore. Ecco, quindi mi fa piacere. C'è una risonanza della nostra regione al di fuori anche dell'Italia. Chi altro vuol parlare di voi? Allora, io sono Fiammetta Marpassi, capodelegazione della provincia di Pesaro Urbino. Mi riallaccio intanto alle aperture che ha elencato Manuela Parini, perché anche da noi apriremo la sede della Prefettura, che a Pesaro si trova nel Palazzo Ducale, uno degli edifici ovviamente più importanti della città, che narra la storia anche delle famiglie che nel tempo si sono susseguite al governo della città, dai Malatesta, agli Sforza, ai Bellarovere. Queste stesse famiglie naturalmente hanno anche avuto la proprietà della Villa Miralfiore, che era inizialmente un casino di caccia, un fondo rustico, e poi nel tempo invece è stato trasformato in casino di delizie, attualmente però sempre circondato da un ampio possedimento agricolo. Attualmente la villa è di proprietà privata, appartiene all'imprenditore Vittorio Livi di Pesaro e il parco circostante non è più privato, ma è diventato un parco pubblico polmone della città di Pesaro e noi apriremo al pubblico entrambi i luoghi. La Villa Miralfiore sarà un bene riservato esclusivamente agli iscritti FAI, potremo visitare sia i bellissimi giardini all'italiana che le stanze dipinte all'interno della villa, dipinte alla maniera degli zuccheri, veramente un luogo prezioso, dove si conserva anche la collezione degli arredi di design in vetro curvato, realizzati da grandi designer e architetti contemporanei. Apriremo anche la Chiesa del nome di Dio, una chiesa sempre realizzata alla fine del Cinquecento, per volere di Francesco Maria II della Rovere, una chiesa molto particolare perché all'interno è completamente rivestita di tele ad olio, dipinte incorniciate di cornici dorate. È una chiesa intitolata appunto a una congregazione che si occupava di seppellire le persone povere, indigenti o i condannati a morte, quindi si occupava sia di accompagnarli al fatibolo che di poi seguirne i funerali. E quindi questa chiesa al suo interno ha molti rimandi chiaramente a questo tema della morte, ma anche a un tema, diciamo, della salvezza che viene illustrato attraverso i dipinti che decorano questo luogo, dove c'è anche una sagrestia perfettamente intatta, molto bella. Poi apriremo sulle colline di Pesaro Villa Gattani Stuart, una villa settecentesca con dei bellissimi giardini all'italiana, affacciati su un territorio ancora rimasto paesaggisticamente intatto, quindi molto bello. Poi apriremo ad Urbino, dove abbiamo scelto un percorso dedicato all'incisione, l'incisione nella divulgazione scientifica per quello che riguarda la nostra collaborazione con l'Ateneo Ordinate, in cui si è scelto di valorizzare appunto i centri museali di Ateneo e attraverso la rilettura di vecchi testi che hanno come illustrazione appunto delle incisioni si parla delle materie che possono essere appunto l'ortobotanico, le collezioni mineralogiche, il gabinetto di fisica, delle strumentazioni o degli argomenti trattati in questi luoghi. Ad Urbino apriremo anche la cappella musicale del Santissimo Sacramento, è una cappella chiaramente dedicata all'educazione musicale, ma che è stata anche stamperia ducale, quindi conserva le lastre per l'incisione di testi. A Fermignano apriremo l'ex danificio Carotti, che in realtà era nato come cartiera dei duchi, e la particolarità è che i proventi di questa cartiera servivano a mantenere la cappella ducale, la cappella del Santissimo Sacramento di cui parlavo prima, quindi c'è questo collegamento. Poi apriremo ad Affalagna la Bazzia di San Vincenzo e l'Antiquarium, che è parte della storia della vecchia città romana. A Mondolfo apriremo la chiesa monumentale di San Giovanni De Collato e la sagrestia della chiesa del complesso di Sant'Agostino, in un percorso legato alla passione di Cristo, appunto collegato alla settimana che precede la Pasqua. Poi a Cagli un percorso su Gaetano Lapis, che percorrerà le chiese più importanti della città, dove sono conservati molti dipinti di questo autore importante, e all'Amoli di Borgo Pace, la nostra abbazia di San Michele Arcangelo, luogo del cuore della nostra città, della nostra provincia. Grazie. Vai, vai, vai. Mi sentite? Allora, invece a Senigallia abbiamo scelto un tema comune per le nostre aperture, ovvero il tema dell'archeologia. Ah, sono Maria Rosa Castelli, capo delegazione di Senigallia. Dicevo che la delegazione FAI di Senigallia ha scelto di mettere al centro il tema dell'archeologia, declinata in tutti i suoi aspetti, per creare un racconto corale con lo scopo di evidenziare le origini comuni e la bellezza del nostro patrimonio artistico e paesaggistico. E soprattutto per spronare i comuni, che spesso sono un po' campanilisti, a offrire ai visitatori una proposta comune, culturale. Apriremo sette beni, tra Senigallia, Ostra e Sera dei Conti. Andremo alla scoperta dell'archeologia musealizzata, con l'area archeologica che si trova sotto il teatro La Fenice, che ci mostra tutta la Senigallia dell'epoca romana. Poi andremo alla scoperta invece dell'archeologia nascosta e dei siti non musealizzati, andando nei sotterranei di palazzi del nostro certo storico, abitualmente ovviamente chiusi. E poi tratteremo il tema dell'archeologia dell'agricoltura, nel Museo di Storia della Mezzadria, in cui si potranno ammirare anche pregevoli fotografie del grande nostro concittadino Mario Giacomelli, uno dei più grandi fotografi del Novecento, che ha illustrato in modo magnifico il nostro paesaggio agrario, e anche l'antiquarium Luisa Pieroni, che ci mostra reperti dell'età del ferro e dell'età romana, rinvenuti a Montedoro. Proprio a Montedoro proporremo invece un percorso naturalistico, in questa bellissima campagna, che parte da un antico frantoio, che vanta degli uvilivi veramente secolari, poi faremo tappa in una chiesetta rurale con una magnifica Madonna del Parto, oggetto proprio della venerazione della nostra città, specialmente nel mese di maggio, e poi andremo a visitare una zona in cui sono stati ritrovati dei reperti di epoca picena, che sono esposti anche al Museo archeologico di Ancona. E infine andremo nella selva di Montedoro, che fa parte dell'area floristica protetta della regione Marche dal 1997. Poi ci sposteremo a Ostra, dove invece andremo ad ammirare l'archeologia multimediale, perché è stato fatto un pregevole video, che ci fa rivedere Ostra esattamente come era in epoca romana. Quindi passeggeremo nella città di Ostra romana e poi andremo a visitare i luoghi della città, dove ancora si possono vedere reperti archeologici sempre dell'epoca. Stesso discorso a Sera dei Conti, dove visiteremo Tre Beni e finiremo, l'abbiamo chiamata archeologia materiale, perché andremo a vedere una mostra con sculture e opere grafiche che costituiscono un itinerario in cui i segni lasciati dalla storia riacquistano, grazie alla contaminazione del vivere quotidiano, un significato di eternità. E qui si chiude il nostro ciclo dedicato all'archeologia. Approfitto della presenza dell'assessore per fare, come dire, per illustrare una cosa a cui tengo molto e spero che anche lei sia passione a questo tema. Ci ho pensato a Sessore di proporgliela quando durante il nostro convegno recente a Napoli il Ministro della Cultura ha dichiarato che fare le cose insieme al FAI vuol dire fare le cose meglio. E allora ho pensato che questa proposta potrebbe interessarle. nel 2022 durante il censimento ai luoghi del cuore un bene proposto a Senigallia ovvero l'Oasi Naturalistica di San Gaudenzio ha ottenuto quasi 7000 voti arrivando 45esime in Italia. Quindi vuol dire che la nostra collettività è appassionata di questo bene. Si tratta di 38 ettari collocati in una zona collinare che sono di notevole importanza perché è una zona quasi completamente occupata da terreni agricoli con una grandissima biodiversità ci sono due laghi che è oasi faunistica ma soprattutto ha quello che piace tanto al FAI questo insieme di natura e cultura che la rende un luogo unico. Tenga conto che la sua storia nasce nel 500 quando venne venerato appunto San Gaudenzio a seguito di una peste venne realizzato un monastero perché c'era una sorgente d'acqua da questa sorgente d'acqua nel 1500 e della Rovere crearono un acquedotto che praticamente alimentò tutta la città e poi nell'800 si trovarono acque sulfure e quindi si parlò di una zona termale e ci sono documenti in cui Senigallia viene definita la nizza delle marche poi grande quantità di fossili di reperti che sono sparsi in sud i musei del centro Italia poi viene realizzato quel complesso industriale che utilizzando le marne realizzava i mattoni poi il cemento, l'italcementi quindi una grandissima fabbrica che si è chiusa intorno agli anni 50 quindi è un luogo meraviglioso che rappresenterebbe il futuro turistico verde della nostra città e essendo così vasta potrebbe essere molto interessante per tutta la regione io ho visto quello che lei ha fatto a Cabernardi che è stato fatto a Cabernardi con il museo dell'archeo adesso le dico voglio chiedere all'assessore siccome è all'asta che la regione è all'asta c'è già stata un'asta che è andata deserta chiedo all'assessore che la regione faccia un pensierino su questo bene perché è veramente un luogo splendido meraviglioso il sindaco il nostro sindaco Massimo Livetti con cui noi collaboriamo meravigliosamente è innamorato di questo luogo e quindi insomma anche lui si farà promotore di questa mia richiesta concludo perché sono andata un po' per le lunghe grazie assessore di avermi ascoltato buongiorno sono Rossella Falzetta sono la capodelegazione di Fermo a Fermo abbiamo un circuito di sei di sei aperture in totale sono tutte aperture private sono grosso modo dimore tranne la centrale idroelettrica di pedasso e sono associate ad un filo conduttore che per noi è carissimo cioè il fattore umano questi sono i presupposti dell'organizzazione delle giornate di primavera a livello locale una sinergia una combinazione di aiuti e di forze che non può prescindere dalla persona la persona che è fondamentale non solo per lo studio dell'apertura che si deve scegliere e quindi associarla ad una storia ad una caratterizzazione molto forte ma è anche il fattore principale dirimente che ci consente di utilizzare delle aperture noi abbiamo il brand l'egida del FAI che è importantissima ma se a questa non associassimo la cortesia la disponibilità dei proprietari dei volontari e di chi si occupa per conto dei proprietari di gestire le aperture non riusciremmo e in particolare quest'anno noi non saremmo riusciti a proporre nell'ordine lasciando per ultimo il bene che considero veramente la chicca di tutto il circuito partiamo da Petritoli con Palazzo Mannocchi che si distingue perché è stata la dimora di Luigi Mannocchi un eminente storico un folclorista che ha esportato i suoi lavori un po' fuori dai confini non solo regionali ma anche nazionali e dal quale hanno attinto a larghe mani tutti quelli che poi si sono occupati di storia locale non solo marchigiana poi abbiamo la villa Villa Bonaparte a Porto San Giorgio che è stata la dimora diciamo un po' il luogo di divertimento di Girolamo Bonaparte poi c'è tutta una storia legata alla sua presenza nella provincia di Fermo ai suoi rapporti a livello politico e amministrativo che andrà che verrà dipanata dagli apprendisti ciceroni è lunghissima ma è davvero particolare e peculiare e poi abbiamo Villa Bernetti a Fermo con Trada Montoni anche qui la sua caratteristica sarà a livello della giornata quella di essere riservata agli iscritti FAI ma è associata a tutta la carriera ecclesiastica di vescovi e altri eminenti rappresentanti dello stato ecclesiastico che a Fermo ha trovato assolutamente terreno fertile tant'è che ci ha regalato poi un'eredità di tesori e di beni culturali davvero inestimabile e a Pedaso c'è la centrale idroelettrica che è un esempio splendido di architettura in questo caso l'artefice è Piero Portaluppi ed è funzionante quindi associa non solo l'aspetto architettonico legato ad una delle massime espressioni a livello nazionale l'unico esempio nella provincia di Fermo ma anche ad una peculiarità dal punto di vista energetico dell'impatto ambientale perché non dimentichiamo che il nostro compito è quello di valorizzare sì ma soprattutto di sensibilizzare a Fermo e mi sto avvicinando alla chicca apriremo Casa Dondero Casa Dondero è il luogo dove Mario Dondero negli ultimi anni della sua vita ha scelto di abitare proveniva da Parigi dopo una vita trascorsa in tutti gli stati chiamarlo fotografo sarebbe estremamente riduttivo ugualmente chiamarlo reporter lui era un vero e proprio giornalista perché non ha avuto timore né di esprimere le proprie idee né di fotografare quelle degli altri e alla fine di questa straordinaria carriera prima umana e poi giornalistica ha lasciato un'eredità enorme che è stata celebrata in tantissime mostre dentro e fuori i confini nazionali e è rimasto un esempio ancora inesplorato di coraggio di missione di ideale politico e in questa casa lui ha conservato gli scatti in questo caso più intimi direi perché ritraggono le espressioni dei familiari degli amici e infatti vedrete sul portale abbiamo scelto gli scatti uno degli ultimi scatti della sua esistenza in cui con la fototeca provinciale selezionava quelle che erano le fotografie più rappresentative della sua carriera e concludo presentando la vera e propria chicca di questa apertura un'eccezione penso non è stata mai resa possibile prima e non so se successivamente lo sarà mi sto riferendo alla villa di Joyce Salvadori Lusso incontrata a Paludia fermo qui la combinazione di fattori va assolutamente sottolineata per questo penso che sia una congiunzione astrale davvero fortunata la disponibilità dei proprietari e qui per proprietari intendo persone che poi hanno tramandato il gene culturale che ha distinto la famiglia associata anche alla disponibilità di chi per conto dei proprietari sta seguendo la delegazione in tutte le fasi organizzative di un'apertura che è davvero speciale qui ha vissuto una personalità perché definire la persona in questo caso è veramente troppo circoscritto che è stata un simbolo in tutti i settori in cui si è affacciata quello della letteratura perché ha esplorato panorami e argomenti che prima erano ancora un tabù per le scrittrici femmine ha dichiarato ha esternato l'importanza della donna come nutrice come fata come cultrice della vita umana e poi ha raccontato ha messo in parole in prosa e in poesia tutta la sua esperienza di partigiana ha fatto la resistenza ha ospitato in quella casa dove sono passati non solo letterati poeti e politici ma persone che erano rifugiate prigionieri politici nella speranza e nell'attesa di essere liberati ha avuto un coraggio che forse non ha pari nella figura della donna moderna e soprattutto non nella nostra cultura locale e a lei è impossibile non associare la figura di Emilio Lusso due volte ministro e coraggiosissimo esule per 14 anni insieme hanno dato vita ad una coppia che ha lasciato in quella casa delle testimonianze che renderebbero orgoglioso il FAI che ci invita a lasciare i beni così come li abbiamo trovati perché la tazzina del caffè gli occhiali le scarpe i copriletti sono ancora intonsi quindi si potrà davvero fare un viaggio nel tempo ma in un tempo estremamente importante che forse dovremmo conoscere veramente tutti quanti per capire quali sono le nostre basi storiche grazie è difficile allora io sono Maria Vittoria Minola sono vice capo delegazione di Ascoli Piceno brevemente si è percepito dagli interventi precedenti la passione che c'è dentro alla presentazione e alla costruzione di queste aperture perché penso che la scelta ma anche la cura con cui vengono proposti i beni rappresentano un valore aggiunto allora io non non indicherò tutti i beni perché avete già modo di poterli vedere noi abbiamo seguito ad Ascoli Piceno che è una città che in questo momento attraversa delle criticità con il problema della ricostruzione con la intensificazione poi di queste dei tempi di intervento appunto queste difficoltà sono state notevoli però abbiamo scelto un filo conduttore che ci interessa che è quello la produzione artistica tra la fine dell'ottocento e il novecento e con un'anticipazione che dirò poi questo questo filo conduttore si esprime con una visita da parte del FAI Giovani all'Affamedio della nostra città quindi con la visita ad alcuni lavori particolarmente architettonici sulle tombe di famiglie nobiliari particolarmente rilevanti e che testimoniano la cura insomma con cui appunto si rappresentava la ripartita e che poi testimoniano l'importanza di questi personaggi nella nostra città per poi seguire con l'esposizione all'interno del Palazzo Balzani che è la sede della presidenza regionale Palazzo Eclettico di dei manifesti della famiglia Meletti manifesti liberti che ci verranno esposti nella sede regionale e che rappresentano un periodo particolarmente innovativo cioè l'avanguardia con la produzione di artisti importanti quindi un periodo del cartennonismo e che si riconunce un po' alla proposta di del fai di San Benedetto con con le produzioni di De Carolis che hanno avuto anche rilevanza anche nella rappresentazione dei manifesti per poi arrivare anche alla contemporaneità con una mostra di un pittore Omar Gagliani che da Palazzo Reale di Milano espone in questo periodo ad Ascoli che è testimone per territorio ambasciatore del Piceno per sensibilizzare la le istituzioni ma anche la città sulle problematiche del nostro del nostro paesaggio quindi parlo del paesaggio che è stato alterato d'arcisma e che è un pittore che è un pittore contemporaneo importante ma che ha una scuola di formazione proprio a Palazzo Dutale dall'Università all'Accademia di Urbino dove è stato insegnante per tanto tempo quindi una formazione classica che si può rilevare poi dalla visita la mostra quindi diciamo questo percorso perché dico che in qualche modo trova delle radici in questa proposta nel novecento su invece l'ultimo bene che proponiamo che all'interno della Pinacoteca di Ascoli Piceno e che è un laboratorio di restauro di un'opera del Crivelli un pittore importantissimo per la nostra regione Gioni Marte perché è il secondo trittico di Valle Castellana e potremo vedere quanto in corso d'opera come si effettua un restauro di un'opera così importante attraverso appunto docenti dell'università che si occupano di diagnostica e anche di invece restauratori che faranno vedere come questi beni vanno conservati e come per oggi ci vuole tanta professionalità nel operare sui beni stessi questo è il percorso Macerata Giuseppe Rivetti delegazione di Macerata allora continuo l'attenzione della nostra delegazione per le aree interne questo vorrei sottolinearlo un aiuto anche all'economia l'economia della cultura penso che a volte con l'assessore ci siamo anche velocemente confrontati su questo il FAI è cultura ma è anche economia vorrei ricordare brevemente un sindaco in una recente apertura il quale ha detto alcune attività economiche hanno lavorato più in questi due giorni che negli ultimi tre mesi le aree interne soffrono hanno problemi come dire diciamo che noti da tempo e con le nostre aperture riusciamo a creare questa sinergia tra cultura ed economia il primo momento che mi piace ricordare è Matelica la città di Enrico Mattei cominceremo proprio da Piazza Mattei con la sua fontana cinquecentesca il teatro un bel giro che hanno organizzato che abbiamo organizzato insieme all'amministrazione comunale di Matelica che diventerà l'ennesimo comune iscritto al FAI perché noi negli anni 2022-2023 abbiamo registrato l'iscrizione al FAI del comune di Macerata Civitanova Marche Tolentino San Severino Camerino Castel Raimondo Montefano e altri ancora che hanno già dato disponibilità di iscrizione come Cingoli e Mogliano Cingoli e Mogliano saranno le altre due aperture che competeranno quella di Matelica che si concluderà con una visita al monastero della Beata Mattia molto apprezzata cui era devoto proprio Enrico Mattei infatti gli trovarono nel suo portafoglio proprio l'immagine della Beata Mattia Poi andremo a Cingoli il balcone delle Marche che dialogherà con Mogliano perché ci sarà potremo visionare due straordinarie opere di Lorenzo Lotto a Cingoli e a Mogliano quindi avremo la Madonna del Rosario esposta appunto a Cingoli e la Madonna nella Gloria dei Santi a Mogliano a Cingoli mi piace ricordare anche in via del tutto eccezionale l'amministrazione comunale diciamo esporrà anche la famosa rosa d'oro di Papa Castiglioni che immagino molti di voi già conoscete è uno splendido come dire momento uno straordinario momento insomma che l'amministrazione comunale ha messo a disposizione degli iscritti e del FAI concluderemo poi la diciamo le aperture con Palazzo Bourbon del Monte a Macerata un palazzo da cui partirono i primi moti carbonari del 1817 nel periodo risorgimentato pochi o quasi nessuno sa che i primi moti risorgimentali italiani partirono da Macerata furono organizzati all'interno di Palazzo Bourbon del Monte e da lì ci fu questo movimento molto importante un palazzo che è stato frequentato da Luigi Virandello Giuseppe Carducci da Costantino Beltrani lo scopritore del Mississippi delle fonti del Mississippi e soprattutto abbiamo trovato assessore una chicca che ci piace ricordare lo statuto della società filarmonica del 1808 prevedeva espressamente la possibilità di iscrizione all'interno della società delle donne anche senza l'iscrizione dei mariti abbiamo documentato abbiamo e quindi visto il periodo visto il contesto è qualcosa di straordinario tra l'altro è stata anche oggetto di una c'è stata anche una recente visita di Vina Verde con la Elisa Isoardi che ha potuto così lanciare queste giornate e apprezzare questa questo straordinario luogo fortemente identitario per per Macerata grazie vedendo il microfono sarò davvero rapido però vorrei ringraziare tutti per la straordinaria organizzazione Alessandra in qualità di presidente ma anche l'assessore qui presente per aver citato i giovani ricordiamo infatti che tutte queste aperture vengono organizzate grazie all'aiuto dei ciceroni delle scuole ma come ha anticipato prima Alessandra è importante anche la presenza dei gruppi giovani delle Marche il FAI ha organizzato questo percorso circa dieci anni fa con gli altri coordinatori nazionali stiamo lavorando da circa un anno e mezzo sul progetto generazione 20-30 ovvero ragazzi dell'età compresa tra i 20 e i 30 anni per in qualche modo inserire nuova linfa nuove idee all'interno del circuito FAI su scala regionale potete tutti consultare i social Instagram e Facebook dei gruppi giovani e delle delegazioni dove il FAI grazie anche a una macchina importante da Milano gestisce la comunicazione con una grafica coordinata con delle informazioni gestite davvero in modo assolutamente professionale come se fosse un'impresa infatti non a caso anche con Giuseppe e Alessandra spesso ripetiamo impresa culturale creativa quindi vi invito a seguire tutti i canali social giovani per l'appunto e delle delegazioni e dei vari gruppi delle marche grazie mille grazie mi spiace che non ci sia la RAI è la prima volta è il primo anno che non c'è la RAI noi abbiamo affidato ovviamente la comunicazione all'ufficio stampa regionale ma no no ce l'ho cominciato insieme non so come sia il problema però è un problema grave perché c'è una parte di città di un'azione quindi non capisco il motivo che non sono arrivati è stata fatta richiesta anche da parte dell'area giulò e dell'area e poi chiamerò la qualitatore non è accaduto nulla ecco quindi non è un problema quindi è stato a primo modo durante la settimana con la RAI quindi abbiamo trovato la settimana RAI con la RAI